preghiere del mattino nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen io credo in dio padre onnipotente creatore del cielo e della terra e in gesù cristo suo unico figlio nostro signore il quale fu concepito di spirito santo nacque da maria vergine patì sotto ponzio pilato fu crocifisso morì e fu sepolto discese agli inferi il terzo giorno risuscitò da morte salì al cielo siede alla destra di dio padre onnipotente e di là verrà a giudicare i vivi e i morti credo nello spirito santo la santa chiesa cattolica la comunione dei santi la remissione dei peccati la risurrezione della carne la vita eterna amen padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen gloria al padre e al figlio e allo spirito santo come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli amen salve regina madre di misericordia vita dolcezza e speranza nostra salve a te ricordiamo noi esuli figli di eva a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime or su dunque avvocata nostra rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio gesù il frutto benedetto del tuo seno o clemente o pia o dolce vergine maria angelo di dio che sei il mio custode illumina custodisci reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste amen l'eterno riposo dono loro signore e splenda ad essi la luce perpetua riposino in pace amen atto di fede mio dio perché sei verità infallibile credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e la santa chiesa ci propone a credere ed espressamente credo in te unico vero dio in tre persone uguali e distinte padre figlio e spirito santo e credo in gesù cristo figlio di dio incarnato e morto per noi il quale darà ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna conforme a questa fede voglio sempre vivere signore accresci la mia fede atto di speranza mio dio spero dalla tua bontà per le tue promesse e per i meriti di gesù cristo nostro salvatore la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare signore che io possa goderti in eterno atto di carità mio dio ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa perché sei bene infinito e nostra eterna felicità e per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute signore che io ti ami sempre più ti adoro mio dio e ti amo con tutto il cuore ti ringrazio di avermi creato fatto cristiano e conservato in questa notte ti offro le azioni della giornata fa che siano tutte secondo la tua volontà per la tua maggior gloria preservami dal peccato e da ogni male la tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari degnati o signore di ricompensare con la vita eterna tutti quelli che mi hanno fatto del bene nel tuo nome converti i peccatori consola gli infermi gli afflitti i carcerati nelle loro tribolazioni agli agonizzanti che oggi moriranno ora in paradiso e concedi il riposo eterno ai fedeli defunti amen consacrazione all'immacolata o vergine immacolata madre mia maria io rinnovo a te oggi per sempre la consagrazione di tutto me stesso perché tu disponga di me per il bene delle anime solo ti chiedo o mia regina e madre della chiesa di cooperare fedelmente come degno milite alla tua missione per l'avvento del regno di gesù nel mondo ti offro pertanto cuore immacolato di maria le preghiere le azioni e sacrifici di questo giorno secondo le intenzioni suggerite o maria concepita senza peccato prega per noi che a te ricordiamo e per quanti a te non ricorrono in particolare per i nemici della santa chiesa e per quelli che ti sono raccomandati signore dio intendo in questo giorno lucrare e beneficiare di tutte quante le indulgenze che la santa madre chiesa concede ai tuoi figli per le loro preghiere azioni e opere buone intendo tutte quante riceverle ed applicarle secondo le intenzioni della madonna per la tua maggior gloria per la conversione dei peccatori per le anime del purgatorio amen sotto la tua protezione cerchiamo rifugio o santa madre di dio non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova ma liberaci da ogni pericolo o vergine gloriosa e benedetta san michele arcangelo difendici nella battaglia si tu nostro sostegno e nostro aiuto contro la perfide lenzire del diavolo che dio eserciti il suo dominio su di lui te ne preghiamo supplichevoli e tuo principe della milizia celeste con la potenza divina ricaccia nell'inferno satana e gli altri spiriti maligni i quali errano nel mondo per perdere le anime amen augusta regina del cielo e sovrana degli angeli tu che hai ricevuto da dio il potere la missione di schiacciare alla testa satana ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti perché al tuo comando inseguano i demoni li combattano dappertutto reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso eccelsa madre di dio invia anche san michele l'invincibile capo degli eserciti del signore nella lotta contro gli emissari dell'inferno tra gli uomini distruggi i piani degli empi e umilia tutti coloro che vogliono il male ottieni loro la grazia del ravvedimento e della conversione affinché essi diano onore al dio vivente uno e trino e a te o nostra potente protettrice per mezzo degli splendenti spiriti celesti custodisci su tutta la terra le chiese i luoghi sacri e specialmente il santissimo sacramento dell'altare impedisce ogni profanazione ed ogni distruzione gli angeli sono ogni istante in attesa di un tuo cenno e bruciano dal desiderio di esaurirlo o madre celeste proteggi infine anche le nostre cose e le nostre abitazioni dalle insidie dei nemici fa che i santi angeli dimorino sempre in esse e vi portino la benedizione dell'altissimo chi è come dio chi è come te o maria tu che sei la regina degli angeli e la vincitrice di satana ottene la madre tu sarai sempre il nostro amore e la nostra speranza o madre divina invia i santi angeli per difenderci e per respingere allungi da noi il crudere nemico infernale santi angeli ed arcangeli difendeteci e custoditeci amen